vado un po' sulla bicicletta oh no! jason hai dimenticato il casco! è importante per la tua sicurezza bisogna mettere il casco? non ho bisogno di un casco io una lamborghini! oh no! sapevo che avrebbe dovuto indossare il casco! corriamo ad aiutarlo però! oh no no no! oh no jason stai bene? non proprio! lascia che ti aiuti! si Sara ti prego aiutami! che preferisci jason? blu o arancione? direi arancione per favore! certo jason! grazie mille! mi sento meglio! allora cosa abbiamo imparato oggi? fate sempre il casco e sarete al sicuro! pronti a partire! divertiti jason! e mi raccomando! indossate sempre il casco! è ora di giocare fuori! che bel monobattino! Alex fermati! indossa il casco! per favore! indossalo! è per la tua sicurezza! non mi serve un casco! oi oi! si! o oh! o no! o no! o no! o no! mi sarebbe servito il casco che ti avevo detto Alex il casco è importante Alex indossa questo casco subito va bene ora in poi indosserò il casco ottimo lavoro ora in poi indosserò sempre il casco per la mia sicurezza fantastico Alex ehi Jason vuoi andare al parco giochi? tutto ma tendiamo molto bene sali Jason si Jason indossi la cintura di sicurezza no mi spiace lo sarò subito bambini indossatela sempre quando siete in auto molto bene Jason ehi fermati che succede Alex? torna subito qui forza che cosa è successo Alex? Jason prima di attraversare la strada bisogna guardare a sinistra e a destra per essere al sicuro ovviamente potrebbero arrivare delle macchine no? va bene destra niente auto sinistra niente auto possiamo andare hurray vuoi che ti spinga Jason? no non ho bisogno di aiuto ok ciao oh no Alex Alex voglio fermarmi oh no credo che Jason stia andando troppo veloce oh oh Jason non ti schianterai fermati fermati oh non devi andare così veloce sull'altalena potresti cadere è pericoloso ok Alex andrò piano d'ora in poi grazie per aver guardato Jason Vlogs e ragazzi ricordate queste lezioni sulla sicurezza dimenticate di iscrivervi fatelo